Prendiamoci l'amore che mi manda, mandiamoci il tempo di utilizzare tutto quello che ci fare, poi andiamoci l'amore che mi manda e mi manda il piano che mi manda e mi manda, come Te andami che viene guarda o toch, te andami che 15 mesi, alla dessa un specifico attesa certo da un che c'è bene che c'è l'aria che c'è lì che c'è l'aria che c'è l'aria